Ciao a tutti, giorno 3, sono appena tornata a casa e questa è la situazione notifiche. Il che mi rincuora perché non dice che sono morti, dicono, dice che soltanto sono malati, affamati, eccetera, eccetera. Oh, sono cresciuti, sono un po' più ciccioni, questi sono i dinosauri. Palle di pelo, di pelo, di non si sa cosa. Palle. I pinguini, anche loro, sono cresciuti. Oh, cicci. Gli alieni. Scusate le risate strane, ma non li ho mai visti, gli alieni, i pinguini, eccetera. Il cane, il cane è uguale, no, ha un piccolo corpicino. L'orso. Lo squalo, anche lui, è un filo più grande, mi pare. Poi abbiamo il cervo giraffa, che adesso è più cervo, effettivamente. E l'elefante, carini. Insomma, mentre fino a ieri erano degli smile, avevano solo una faccia, oggi hanno anche un corpo, tranne, focus, tranne dinosauri che sono rimasti delle semplici palle, e anche i pinguini, e anche gli alieni. Vabbè, comunque, gli altri animali hanno, finalmente, un corpo. Sono messi tutti male, vediamo se resistono ancora a lungo per oggi. Intanto direi che, come primo aggiornamento del giorno 3, può bastare. Ciao a tutti.